Ho detto che la nostra manovra dovesse essere rigorosa, equa e anche etica e questo vuol dire che ci debba essere anche un sacrificio per tutti, è ovvio che non si può intervenire con la legge dello Stato rispetto a certi stipendi, ma perlomeno che i giocatori della nazionale abbiano la previsione di un premio che sia rapportato al momento della crisi e anche un gesto da parte loro di buona volontà, svolgendo un ruolo di estremo livello, ma a titolo onorifico, anche perché guadagnano tanti soldoni con le rispettive squadre di calcio e quindi ho fatto anche questo appello alle società perché ridimensionino gli ingaggi dei calciatori.